Benvenuti ad una visita virtuale della biblioteca di Montevergine. Si tratta come è possibile notare di un video amatoriale girato in tempi di Covid-19. La denominazione completa della biblioteca di Montevergine è Biblioteca Pubblica Statale, annessa al Monumento Nazionale di Montevergine. Appena l'utente barca l'ingresso si trova davanti l'ufficio accoglienza presso il quale deve sottoscrivere la carta d'ingresso. Sempre da questo punto si accede agevolmente ai cataloghi storici della biblioteca. Il catalogo principale alfabetico per autori e titoli e il catalogo secondario alfabetico per soggetti. Da questo stesso punto si accede alla sala di consultazione che come è possibile vedere è una piccola sala con soltanto 15 postazioni che sono però sufficienti per il numero medio mensile di utenti che è poco meno di 100. Dalla sala di consultazione si accede poi ad alcuni uffici riservati al personale. La biblioteca di Montevergine si sviluppa su tre livelli. Piano terra, quello sul quale ci troviamo noi adesso, primo e secondo piano. Percorriamo perciò questa bella scala di granito rosa che ci condurrà al primo piano della biblioteca. Siamo nel primo piano in cui entriamo in una delle sale più bella della biblioteca di Montevergine, la sala H, che è allestita con 52 poltroncine e viene infatti utilizzata per organizzare giornate di studi ed aggiornamento professionale con vigni e presentazioni di libri. Sempre in questa sala è da notare l'elegante schienale semicircolare della cattedra che è sormontato dallo stemma dorato dell'abbazia di Montevergine e cioè le tre montagne sormontate da una doppia croce di cui la seconda cerchiata. Su questa seconda croce cerchiata che simboleggia la Vergine la corona che sta a testimoniare della protezione regia e imperiale di cui ha sempre goduto la biblioteca di Montevergine. La biblioteca in origine era sorta come strumento esclusivo di studio e di sussidio alle attività di ricerca dei monaci della congregazione monastica virginale di Montevergine che fu fondata nei primi decenni del secolo XII da Guglielmo da Vercelli poi divenuto patrono di Irpinia. La sua storia è dunque la stessa della congregazione monastica di cui seguì le alterne vicende fino all'unità d'Italia e all'emanazione delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose. Nel 1868 Montevergine fu denominato monumento nazionale e la biblioteca divinne patrimonio dello Stato. Oggi la biblioteca è un ufficio dipendente dal Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo. Si trova all'interno di un gioiello dell'architettura barocca meridionale della seconda metà del secolo XVIII e cioè il palazzo abbaziale di Loreto di Mercogliano che vediamo inquadrato qui in questa fotografia del palazzo. La biblioteca occupa un'ala. Questo palazzo fu costruito per ragione di carattere pratico dai monaci della congregazione di Montevergine tra il 1732 e il 1750 ci lavorarono il primo architetto progettista che fu Domenico Antone Vaccaro che poi alla sua morte nel 1745 fu sostituito dall'ingegnere Michelangelo di Blasio. La biblioteca conta oggi più di 200.000 volumi a stampa, poco meno di 500 periodici, 1.048 cinquecentine, 35 incunaboli, 24 codici. Inoltre nel piccolo archivio annesso può vantare un patrimonio di più di 7.000 pergamene e 100.000 documenti sciolti. Questo patrimonio concorre alla definizione della storia non soltanto religiosa ma anche civile dei paesi in cui si è stese l'opera civilizzatrice della congregazione, come amava ripetere padre Placido Tropeano, direttore della biblioteca di Montevergine fino al 2008, anno della sua scomparsa, quando poi fu sostituito dall'attuale direttore padre Andrea Davide Cardini. Questa nella quale ci troviamo adesso è la sala F, una sala di vita in parte a deposito librario e parte a sala mostre con queste bacheche. In queste bacheche vengono periodicamente allestite delle mostre che la biblioteca organizza anche e soprattutto in occasione degli eventi promossi dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Dalla sala H, ritornando indietro, si accede alla piccola antisala, la saletta L, nella quale trova posta la prima delle due mostre permanenti che è stata allestita in biblioteca. Questa prima mostra è significativamente intitolata dal papiro al libro stampa ed illustra l'iter di formazione della scrittura con particolare riguardo alla importante e prestigiosa produzione dello scrittorio virginiano. Questa mostra aveva e dà in parte ancora adesso un carattere didattico per ricchi serviva per illustrare ai giovani studenti che venivano in visita in biblioteca secondo un fitto programma di visita guidata che, come dicevamo prima, in parte è attivo ancora adesso. È un itinerario cronologico che si conclude con la produzione più recente del scrittore virginiano e cioè soprattutto il codice diplomatico virginiano che vediamo incontrato qui adesso di cui sono stati stampati 13 volumi. C'è un lavoro sistematico sulle pergamene di Montevergine che però per il momento è fermo ancora all'alto medioevo. Percorriamo la seconda rampa di scale per accedere al secondo piano della biblioteca. Ci troviamo qui nella sala M della biblioteca in cui sono ospitati soprattutto bibbie del 600 e del 700 ma alcune collezioni importanti di quale la patologia greca e la patologia latina e di fianco l'analecta bollandiana, una rivista del settore molto molto importante. Fa bella mostra di sé all'ingresso della sala M. Questa edizione di pregio della Divina Commedia fu realizzata in occasione del sesto centenario della morte di Dante Alighieri 1921. Questa che vediamo è esposta è soltanto la prima cantica ma il Purgatorio e il Paradiso si trovano ospitate in deposito nella parte bassa di questo splendido mobile in legno. All'interno di questa sala M si trova la seconda delle due mostre permanenti che abbiamo ospitato in biblioteca che riguarda i documenti originali dell'Annunziatura Apostolica di Monsignor Luigi Barbarito, un irpino illustre che fu nunzio apostolico in diversi paesi del mondo. L'ultimo suo periodo come ambasciatore della Santa Sede fu in Gran Bretagna dove gli furono attribuite numerose onorificenze. Quando Barbarito che è morto nel 2017 è andato poi in pensione come nunzio apostolico ha deciso di donare alla biblioteca di Monteviggini i suoi documenti originali relativi all'Annunziatura Apostolica. Da ciò noi ne abbiamo tratto una mostra permanente che è questa che abbiamo visto in questo momento. Si conclude qui questa brevissima visita della biblioteca di Monteviggini e alla fine della quale invitiamo gli utenti a consultare il sito web istituzionale all'interno del quale è possibile accedere al catalogo online della biblioteca in cui sono reperibili circa 70.000 notizie di quelle che realmente possiede la biblioteca di Monteviggini ma è un lavoro questo ancora in corso ma soprattutto è possibile vedere le due versioni virtuali di queste mostre che abbiamo visto in questo breve tour ed è possibile anche vedere anche delle documentazioni video di altre attività e eventi che la biblioteca di Monteviggini ha organizzato nel corso degli anni. Ma l'invito più caloroso che facciamo nel chiudere questo breve video è quello di venirci a trovare di persona. Grazie a tutti.